Oggi è venerdì 21 agosto 2020. Nessun giorno, un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 agosto 1841. Negli Stati Uniti, John Hampton, di New Orleans, ottiene il brevetto per l'invenzione della tenda veneziana. Si tratta di una serie di stecche orizzontali orientabili applicate a una finestra, che si sovrappongono una volta chiuse, regolando, secondo l'angolo di chiusura, l'intensità della luce che lasciano filtrare. Prima dell'introduzione dell'uso di queste tende come protezione per i raggi solari e per la privacy, venivano applicati alle finestre teli di pelle animale, oppure di tessuto non a trama lavorata. Le tende veneziane permettono di ottenere in maniera più semplice e contemporaneamente protezione dal sole, controllo della quantità della luce che entra nella stanza e gestione della privacy. Vengono chiamate veneziane perché la tecnica originaria da cui derivano quelle moderne è realizzata nel corso del XVII secolo a Venezia, dove i maestri vetrai di Murano realizzano le prime finestre in vetro, che poi si diffondono in tutto il mondo. In realtà, secondo alcune fonti, la tecnica moderna sarebbe stata messa a punto in Giappone. A Venezia la tecnica viene importata dai commercianti, che la apprendono nel corso dei loro viaggi nelle terre dove questo genere di tende viene utilizzato già da tempo, in Cina, Egitto e Persia. È per questo che in Francia queste stesse tende sono conosciute con il nome di persiane. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiano nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri dodici minuti di oggi. Buona giornata.